gli operativi pronti in aeroporto si torna oggi roma da roma perugia perugia si va ancona da ancona si torna a perugia da perugia si va a viterbo da viterbo si torna a perugia domani mattina si sveglia a Firenze poi Torino poi Cuneo poi si ritorna il giorno dopo e via ah si sono io vai è arrivato mamma mia come si è carico stamattina eh si 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 vede fatto la levatacce sta a chi il nostro Walter Zenga mi hanno rubato il profilo aggiungetelo tutti gli ho detto che non tornavo a pranzo bello eccolo amichetto mio come stai? bello sei contento? certo ma mi hai detto che stai a Rimini eh visto è parecchiato per tre perché? perché so che tu mi hai detto è telefonata la tua nonna è che stai a Rimini e allora dico oggi non vieni bevi un po' che sei disegno fermati i porchi no no allora gassatela poi fermati mannaggia la cabeza no guarda quanti ce n'hai dietro dei croci si ritorna proprio qui nel luogo del delitto eccolo qua vai facci vedere facci vedere che ci sei mancato vai 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 no io non è che sono mancato io ci ho sentito vai 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 fai vedere fammi vedere ma oh è stato fermo eh? che ho fatto? eh ti le bello un di peracce attenzione eccolo mmm di coglione arzuche? mmmm fongolette buone mmm bel pacchettino arzuche o no? no che arzuche? va a mangiare rompi i coglione che arzuche? che arzuche? un parco i coglione guarda ci ho preso anche il pennellino no 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 no